Il rientro a scuola in presenza dopo le vacanze natalizie ha confermato quelle che lunedì erano solo stime approssimative. Circa l'11% del personale scolastico tra docenti e ATA risulta essere assente anche per motivi legati al Covid. Cifre che però da quanto accertato dall'ufficio scolastico regionale si discostano di poco dai numeri degli anni scorsi, quando la percentuale oscillava al 9%. Sul numero di assenze ha influito positivamente il fatto che in Puglia più del 90% del personale della scuola risulta vaccinato con doppia dose e una buona percentuale anche con la terza. Ora a preoccupare maggiormente sono le assenze dei ragazzi, infatti nelle superiori uno studente su tre non è rientrato, ritenendo le aule poco sicure visto l'indice di positività in aumento legato alla variante Omicron. Nel solo territorio barese i casi di contagio presi in carico dall'Epidemic Intelligence Center dell'Asla di Bari tra il 3 e il 9 gennaio sono stati 116 in aumento di 10 unità rispetto alla settimana precedente. Di questi 73 sono studenti e 43 operatori scolastici. La maggior parte dei casi si sono concentrati negli istituti secondari di primo grado. Qui su 41 positivi ben 21 risultano non vaccinati. 34 invece sono i casi nelle scuole primarie, 21 nelle scuole superiori e 20 nelle scuole dell'infanzia. I casi a detta della referente Severina Cavalli sono sottostimati perché concomitanti con la sospensione delle attività didattiche. Nel Foggiano invece torneranno a scuola il prossimo 17 gennaio gli studenti di Ursara di Puglia, dopo che il sindaco Tommaso Lecce ha firmato la scorsa settimana una ordinanza che sospendeva le attività scolastiche in presenza fino a sabato prossimo. Il rientro in aula è dovuto all'organizzazione di un servizio screening destinato alla popolazione scolastica a carico del comune. Venerdì pomeriggio e per tutta la giornata di sabato su base volontaria, alunni, docenti e personaliata potranno usufruire gratuitamente dei tamponi antigenici. Grazie